È stato un privilegio per me accompagnare la vostra speranza, è stato un privilegio per me fare questo tratto di strada insieme. Abbiamo provato a cambiare la politica, non ce l'abbiamo fatta. Adesso sarà meraviglioso dimostrare che la politica non riuscirà a cambiare noi. Sarà meraviglioso dimostrare che riusciremo ad essere come siamo stati in questa campagna, tenaci e coraggiosi. E che ricorderemo sempre nel dare una mano alle sfide che verranno, perché se noi non ci occuperemo di politica, la politica continuerà a occuparci di noi. Allora è bene che da domani mattina, smaltita la delusione, si riprenda il cammino. Beh, è bene che tutti noi ci ricordiamo che abbiamo tre cose dalla nostra parte. Abbiamo dalla nostra parte l'entusiasmo, abbiamo dalla nostra parte il tempo, abbiamo dalla nostra parte la libertà. Ho ricevuto molto di più di quello che ho dato. Vi ringrazio e vi abbraccio forte.